Siamo con Filippo Ligotti, il titolare del Sandwich Club. Ciao, buonasera, bentrovato su Kioggia TV. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, secondo anno, diciamo così, anzi terzo anno di stand, è diventato un appuntamento che non solo cresce ma soprattutto diventa anche una meta di un divertimento molto rilassato, no? Sì, 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 indubbiamente. Qui si inizia già dalla mattina presto con appunto questi casebo, queste situazioni un po' lounge, quindi materassoni, cuscini, puff, per poi andare a fare...